Carlo Acutis, un giovane del mondo con lo sguardo verso l'alto. Mi piace dire che Carlo ci aiuta a togliere la paura della santità. Non è che uno per essere santo deve essere strano, deve essere una sorta di extraterrestre. No, Carlo era molto inserito nel suo mondo, nella società, nella vita, nel cuore della vita. Carlo amava, ad esempio, la piscina, la spiaggia, lo sport, la musica, l'informatica, anche la scuola. Anche se non era il primo della scuola, però con molta competenza, con molto senso di dovere, ha portato avanti gli studi, anche pensando di servire il prossimo con quello che imparava. Allora, qual era il suo segreto? Che lui ripeterà più volte questa cosa, che incuriosisce come Carlo parla dello sguardo. Ad esempio, amava dire che la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stesso, ma la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. L'incentramento su di sé ci porta sempre alla tristezza. Aveva già notato questo Carlo. E poi diceva che la conversione non è tanto complicata. Secondo lui, come un ragazzo poteva dire, bastava un cambiamento di direzione di sguardo. Perché se guardiamo più in alto, noi riusciamo a prendere quelle realtà che non troviamo intorno a noi e che ci possono elevare l'anima, lo spirito. A questo proposito mi ricordo una signora che è venuta al santuario raccontando questo sogno che aveva con Carlo, senza conoscerlo. Era un momento difficile, mi raccontava, di grandi difficoltà e angoscia. Ha ripreso a pregare, perché era da tanto che non faceva. Può succedere che torniamo a Dio nel momento della difficoltà. Ebbene, in una notte fa un sogno. Sogna questo bello ragazzo che non gli dice niente. Semplicemente la guarda e sorridendo fa questo gesto. E se ne va. La invita a direzionare lo sguardo verso l'alto. Questa signora dice che già si è risvegliata con grande pace dentro. E aveva imparato la lezione. Dopo ha saputo chi fosse quello ragazzo. Si trattava di Carlo Acutis. Io ho detto veramente era lui, perché lui amava dire che dobbiamo alzare lo sguardo verso l'altro. Verso Dio. E quindi adesso, usando tanto i cellulari, lo smartphone, siamo un po' costretti a guardare in giù. Oppure quando siamo abbattuti dalla tristezza, dello scoraggiamento, solitamente abbassiamo lo sguardo. E possiamo così abbassare anche la guardia. Allora Carlo ci insegna, ci aiuta ad avere lo sguardo rivolto nel modo giusto. Prendendo energie nuove, forse, e la forza da dove abita il nostro Dio. Qualcuno diceva, e concludo, che la vita di una persona può essere definita dal suo rapporto con il futuro. Se lo vedi il futuro tenebroso, come un cielo senza stelle, la vita sarà così, nel buio. Ma se guardiamo il futuro con gli occhi di Dio, sapendo che siamo, come diceva lui, fatti per l'infinito, non infinito, e da sempre siamo attesi nel cielo, allora sì, che una luce si accende dentro di noi. Lasciamoci illuminare da questa luce che Carlo ci indica. Guardiamo in su e avremo la felicità. Pace e bene.